Risotto al tastasal Sciogliere una noce di burro Aggiungere 300 g di tastasal Il tastasal è la pasta di maiale Spezzettarla con una forchetta Cuocerla per 15 minuti Aggiungere un rametto di rosmarino per insaporire Mettere il coperchio e lasciare cuocere per 15 minuti a fuoco basso In un'altra padella sciogliere un po' di burro con un po' di olio Versare un po' di cipolla tritata Farla rosolare per qualche minuto Ora aggiungere il riso carnaroli Tostare il riso per 4-5 minuti Fino che bello caldo Sfumare con un bicchiere di vino bianco Ora cominciate la cottura col brodo di carne Importante che il brodo sia assaporito Ora che la carne è cota Togliere il rosmarino Quando manca 5 minuti Versare la carne nel riso E finire la cottura del risotto Mantecare con una bella noce di burro e formaggio grattugiato Il risotto è pronto per essere servito Mantecare con una bella noce di burro Questa è una tipica ricetta veneta Amata da tutti Fateci sapere se fate la mia ricetta Buon appetito